Porta, non dentro. Simone! Simone! Vai, Dani, accedere un po', vai, vai, vai! Le mani! Bravo, Simo! Così! Deciso! Albiro! Albiro! Mauro! Mauro! Albiro! Oh, mica io lo chiamo al campo. Albiro al campo! E basta queste mani, abbassa! Va dentro, Michele! Vai, Dani, subito il numero, André. Inizio, 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 inizio! Che ti mette più col culo il pizzo! Buona, Padri, dai! Te fa male, Padri? Te fa male, Padri? Così, così. Davvero, non faccio un po' solo una cambiata così. Devo sempre tenere così, da quest'altra parte. Ci vediamo! Ci vediamo dopo il domenica, dai! Calcia! Calcia! Camillo! Camillo! Camillo, sei in pollo! E chi ha visto? Che è di targinteria? Targinteria, sì! Calcia! Ma se a che c'è di più? No, a me è la tabba su, ma è di Daniele. Ah! Olli, ti allarghi! Olli, venite qua per piacere! Forza, stai largo! L'arza, l'arza! Vai, Capone! Michele, dietro a loro! Michele, dietro alle due fuste! Vai! Giocano, ci fai! Bravo! Vai fino a fondo! Dai che fuori, André! Buono, buono, André! Capone! ma stai brigando capire Andrea, non è nata che cazzo nel bonus capire Andrea abbiamo rinculato l'altra l'altra cosa è che l'alentrata arrivo ecco l'andrata è che l'alentrata è che l'alentrata come arriva? come arriva? vai simon è un spagnolo Alessandro dai lascialo non lo vedi Allora dai un po' Bravo giovane Olly vieni Olly, Olly vieni l'arco Alessandro, Alessandro, devi stare fermo lì adesso, basta c'è Olly di qua E se non hai capito esci, che te posso fare? C'è c'è in capisce, Alessandro Olly, 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 Olly Alessandro, ci stanno 4 davanti, non è che potevamo andare 24 davanti. Olli, stai largo. Andrea, va in mezzo.